Salve ragazzi, come state? Buongiorno a tutti. Buon anno, ok? Buon anno, speriamo che questo anno sia il buono. E niente, volevo parlarvi, già che parlo poco, non ci sono tanti video in italiano su elganoderma, ok? È un fungo millenario e fa miracoli, ok? È tanto importante che ha salvato vite con persone con cancri e altri tipi di malattie, ok? Ha migliorato molto la salute delle persone e quindi sarebbe fare, gente che ha problemi di salute, la ganoterapia. Che cos'è la ganoterapia? Semplicemente consumare i prodotti, cioè in Italia si consuma molto il caffè, ok? Quindi, per esempio, questo è il caffè che ha ganoderma, ok? Questo caffè è il 3 in 1 e veramente serve per diversi tipi di malattie, ok? E anche prevenire, ok? Non è solo che io sto male e quindi consumo il ganoderma. Il ganoderma sarebbe meglio consumirlo da quando nasciamo, ok? E sono supplementi, ok? Oggi, al giorno d'oggi, quello che tutti gli alimenti che noi stiamo mangiando vi mancano i nutrienti, diciamo, veri e propri, tra chimici, pesticidi, non so cosa, quindi l'alimento non è così completo di questi nutrienti. Quindi ci aiutiamo con dei supplementi. Questo è un fungo che potete cercarlo, il ganoderma lucidum, ok? E' un fungo che usavano gli imperatori. Poi, dopo anni, è stato dato anche al popolo, ok? Quindi questo è un caffè. Abbiamo un caffè, abbiamo il cioccolato, per esempio, invece di consumare il cioccolato che vendrò lì, che non è sano, questo qui è il cioccolato, ok? Veramente anche per bambini, anziani, per la concentrazione, per la sitichezza e tutto. Serve per la concentrazione. Questo è il caffè, ok? Non l'ho fatto vedere, questo è il caffè, ok? Che si può fare uno o due, ok? Io lo posso fare in mezza bustina, ok? E io poi ho anche, che mi piace anche, questo è per esempio il cappuccino, ok? Il cappuccino è così, ok? Ha sempre il ganoderma. Diciamo che questi qui, il ganoderma maturo e il cocco, c'è il ganoderma bebè, diciamo, ok? Questi, il ganoderma, diciamo, ha una piccola quantità. Poi c'è il ganoderma puro, che non ce l'ho perché l'ho venduto a una clienta, però diciamo, è un butticino così, con 30 o 90 capsule, dipende. Poi c'è la spirulina, diciamo la ganoterapia sarebbe, ganoderma, ganoderma più spirulina, questa sarebbe la ganoterapia, ok? La gente che ha dei problemi di salute o vuole prevenire la salute, la ganoterapia sarebbe ganoderma più spirulina, ok? Poi già dirò, no, la differenza della spirulina commerciale, la spirulina dell'impresa, il ganoderma, magari tanto il ganoderma nel commerciale, però, da spiegherò perché è la differenza, no? Perché questo è migliore e no. E poi abbiamo anche le creme, queste sono le creme nuove, ok? Io ho le bianche, ci sono anche quelle azzurre, però, ok, queste qui sono come greche, ok? Non so se vedete, tipo, tipo una cosa greca, ok? Quindi sono veramente i prodotti super economici, ok? Tutto il mondo lo può comprare, perché veramente sono super economici, ok? Quindi lascerò i miei dati e contattatemi e vi spiegherò un po' sulla ganoterapia e posso fare anche formazioni, ok, su una ganoterapia, non solo lunghe, ok? Una formazione, 20 minuti, mezz'oretta, giù di lì, ok? Possiamo parlare della ganoterapia, potete farmi domande, eccetera. E comunque, ripeto, la ganoterapia è proprio di testa, artritis delle mani, dolori, dottore alle ginocchia, fegato, rignoni, diabete, colesterolo, il cancro, che dicevo, molta gente si è salvata, c'erano i medici che dicevano che gli davano pochi mesi di vita e la persona si è recuperata, ok? E quindi serve per diverse cose, ok? Quindi, niente, se volete più informazioni, contattatemi e vi spiego un attimo, ok? Dai, ciao, ciao!